La sclerosi multipla è una malattia cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante, che colpisce soprattutto i giovani e ancora senza cura. Vi svelo la mia ricetta segreta. Bastano due ingredienti semplici quanto essenziali, una buona dose di ricerca scientifica e le mele che ho usato per questa torta. Le mele di Aism, l'1, il 2 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con Aism e tu, che aspetti?